Casa De Spar, prezzo e qualità. Amore, ma sei ancora lì? Dai, ma prendi quello che costa meno, quello che capita. Tu prendi quello che capita. Io scelgo il meglio. Io ne sono alla prova. Amore, eri in offerta. Ops, mi avevi detto di prendere giusto due cose. In realtà hanno un prezzo imbattibile. Nessun rapporto è perfetto, ma per quello tra qualità e prezzo, vieni da De Spar. De Spar, il valore della scelta. Grazie a tutti.